ciao raga oggi mac bang io sono francesca e sono le 8 di mattina 8 5 non so se si vedete qua c'è il mio fidanzato siamo da mia suocera e oggi mac bang con queste e poi questo ovviamente non le faccio cominciamo da queste le dici queste sono le mascherine di carnevale con spesso cioccolato bianco e poi cioccolato non so di che tipo scusate c'è il mio suo c'era che aveva fatto un po di casino questo video è consigliato per chi non è a dieta ovviamente con tutta sta roba di cioccolata arancia rosa senza zuccheri ma perché ci sta dai io passerei direttamente a queste qua che ci sono secolo crema che con cioccolato però non abbiamo niente per aprire sono mini ce n'erano anche delle altre ma con queste qui abbiamo deciso di prendere queste cose perché c'è un po di scelta dai un po più di scelta adesso sono tutte con la crema io sarei da passare direttamente a caffè ci hai messo a ridere adesso stop perché la macchinetta fa un casino assurdo ecco qua c'è il caffè quinta nota di zucchero scotta detto questo io vi saluto e noi ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao